In tesa raggiunta tra amministrazione comunale di Salerno e venditori ambulanti da settimane in agitazione per il no a lungomare e da altre zone del capoluogo nel periodo di luci d'artista, incontro in sala giunta a Palazzo di Città tra i rappresentanti del comune con gli assessori Loffredo e Savastano, il capostaff Enzo Luciano, oltre a Mimmo Ventura Donato Pessolano per discutere con i venditori e trovare un accordo. Gli stand potranno essere allestiti ma in piazza Sant'Agostino dove comunque per problemi di sicurezza saranno interdette le frigitorie o comunque gli stand con bombole di gas. Abbiamo spiegato le motivazioni per le quali noi riteniamo che il lungomare di Salerno debba essere un po' il salotto della nostra città per cui non vogliamo che tra l'altro in modo incontrollato ci siano delle postazioni, le cosiddette postazioni fuori mercato di ambulanti che vendano i loro prodotti. E quindi abbiamo proposto loro già da qualche giorno una soluzione alternativa che possa ovviamente consentire loro di poter vendere i loro prodotti. Ovviamente parliamo di ambulanti autorizzati cioè con una licenza di tipo A che siano in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla legge. E a questi qui noi consentiremo tra virgolette consentiremo nel senso che loro potranno vendere i loro prodotti e quindi beneficiare un po' del grande afflusso di visitatori che avrà la nostra città nel periodo di luci d'artista per portare anche qualcosa a casa. Serviranno degli stand uniformi? Sì, cercheremo ovviamente di trovare un coordinamento tra di loro cioè per fare in modo che tutti abbiano degli stand uniformi, che siano anche gradevoli esteticamente perché ovviamente anche questo fa bene alla nostra città. Ci ha dato l'opportunità di mangiare a Natale il signore Enzo. No, è la verità, l'amministrazione però un po' particolare per Enzo. Il problema era la vendita che non riuscivamo a prendere il permesso per vendere. Abbiamo risolto, non ci hanno accomodati e siamo felici. Le zone di San Agostino e qualche postazione alla villa comunale, basta. Resta interdetto comunque lungomare? Resta comunque off limits, lungomare no? No, lungomare no, poi l'anno prossimo vediamo nella migliore dei modi se possiamo accomodarci a lungomare perché è l'unica zona che noi possiamo vivere un po' migliore.